partiamo da botto e queste sono le lettere tr o finale terzo elemento poi ho fatto il botto trionfo oppure di botto in maniera di certo quindi di in tronco di botto tronco il primo che è tutto trionfo trionfo otteniamole altri significati un botto un troppo posto non solo milanese si botto scoppio verre relativo a di prima però quindi di botto si esatto immediatamente tra tronco quindi troppo abbiamo detto la prima botto sennò poi il botto proprio in sé un botto di capodanno esatto quindi un tripudio un tripudio ho fatto un siamo sempre lì se si trionfo se oppure tra significati molto fare il botto quindi fare diamo il fare l'oggetto è e il botton is ok abbi un tragico buono scherzo tr utro tempo ancora sì altre parole ti rulers ho tanti tra molto tratto ad un tratto ad un tratto un robot di voto ad un tratto buona bella un botto tremendo si può essere tragico sono troppe buttiamoli ancora 3, 1, 8 3, 8 Gabriele, comprate il terzo elemento mi date la parola compriamo il terzo elemento comprate il terzo elemento rimettiamo e questo è il nostro terzo elemento ispirato trionfo trionfo ispirato troppo tratto ispirato preso tratto da tratto da, ispirato da e botto con tratto a un botto di un tratto teniamola gli altri che vi hanno detto erano botto, trionfo tratto tragico ispirato può essere anche una persona ispirata sì, un trionfo no ispirato trionfo no ispirato è arrivato il momento Gabriele mi date la parola che vale 6.250 euro tratto tratto toglietevi le cuffie ne avete dette tante fra le tante c'è la parola mi la spieghi questa abbiamo pensato tutto d'un botto cioè ad un tratto tutto d'un botto quindi in un certo momento dell'azione e tratto da ispirato a un'opera un film anche triunfo avevate vero? sì va bene allora scopriamola insieme la parola di questa sera è ed è tratto bravi tutto d'un tratto tutto d'un botto bravissimi avete vinto avete trovato anche oggi l'ultima parola con voi ci vediamo domani come con gli amici da casa e la parola va direttamente al TG1 grazie